sentiamo chi arriva eh la musica è quella la musica è quella Filippo pochissime le apparizioni in pubblico insieme ma anche l'Italia ha avuto la sua first lady l'affidanzata ufficiale dell'ex premier Conte lo è ancora chissà sono tante le curiosità degli italiani con i potenti mezzi di radio recesse ecco un grande scoop ed è con noi al telefono la fidanzata di Conte vediamo e sentiamo da lei come sta vivendo questo periodo ciao ciao che bello essere qui di nuovo io volevo avvertire Filippo che non la conosce molto bene che lei è un po' stizzosa te lo dico conosciamola insomma forse di più anche che bello dai che me lo spaventi sono contenta che mi abbiate di nuovo invitata qui nonostante il licenziamento di Giuseppe è Giuseppe grazie ragazzi a proposito signora posso chiamarla signora ma sì volgarmente detta signora signorina lei non è sposata va bene non siamo sposati preferirei signorina ho già il ciclo non entri nei particolari è così giovane ok ci racconti come l'ha presa se può dirlo l'ex premier Giuseppe Conte come l'ha presa signorina come mi ha presa a me come come ha preso la situazione come ha preso la situazione no lei no lei vai a spiegare no no ci si è la situazione come l'ha presa è un disastro Giuseppe non se ne fa una ragione anche perché Giuseppe arriva da una famiglia particolare il papà era segretario comunale la mamma maestra elementare e cosa c'entra cosa c'entra no niente in effetti era così per dire qualcosa di Giuseppe comunque aspetta che parli di Giuseppe spuntano le la sta chiamando la sta chiamando la sta chiamando sì un attimo silenzio sentiamo pronto Giuseppe no non ci si è le corne era per via non ti ho fatto le corne ci si è dai no ci si è ti tengo anche se non sei più il premier dai ancora per un po' ti tengo dai ci si è dai si attira no prometto ci si è no prometto non ci giura ci si è non ci giura te l'ho detto mille volte prometto dove sei ci si è ma con le dpcm non è più cosa tua ci si è attestalo vieni a casa poverino dimmi veloce dai che mi stanno intervistando Giuseppe quelli di Rigo fa buon santo dai Giuseppe Enrico Filippo Giuseppe ancora loro che fa dai che mi sentono Giuseppe dai l'ha contato amici no sono simpatici sono amici che faranno quattro cazzate ma no ma no ma scusi dai Giuseppe dimmi Giuseppe Giuseppe ma stai parlando inglese non capisco cosa dici Giuseppe non si capisce niente quando parli ripeti allora piano questo vuoi dirmi Giuseppe la destra è quella con cui scrivi ok dai stai tranquillo ciao a dopo ciao Giuseppe dimmi una cosa la pasta stasera Giuseppe la pasta Giuseppe ma lui potrebbe anche mettere giù no niente Giuseppe non capisco non capisco quello che dici ciao ciao mi dici scusa ma a parte che potrebbe anche mettere giù quando siamo in radio con lei ma primo e secondo lo prende in giro per l'inglese maccheronico anche lui scusi dai lo prende in giro perché non è portato per le lingue Giuseppe siamo andati a Torino per esempio per un incontro io non pretendo che mi impara il chiamontese in 248 però ci ha messo un pomeriggio per dire ne dai comunque questo periodo è stressante per lui no possiamo solo immaginarlo è stressante certo poi in questo periodo veramente a volte risponde male anche a me manco fosse una giornalista diventa fastidioso deve proprio dare fastidio alla persona ma tipo cosa tipo ma che ne so l'altra volta dal medico se il medico lo ausculta e lui ha i 5 minuti di nervoso il medico gli dice dica 33 e lui dice 32 e ci si è è fatto così è fastidio aspetti un attimo che di nuovo lui scusatemi oh signora il telefono di nuovo lui aspettiamo che è stressante dimmi veloce ci si è piano cosa c'è respira sei agitato ci si è calmati che succede conta fino a 10 ci si è calmati si ricordati che dopo l'8 c'è il 9 prima del 10 non fa come l'altra volta ci si è certo che anche l'epoca è la pegola cosa è successo ci si è hai perso il cellulare ci si è ma ci si mi stai chiamando con il cellulare ma c'è capito non c'è più con la testa mi stai chiamandomi ci si è è completamente fuso dai vieni a casa che fai danni in giro ci si è respira calmati no i draghi non esistono ci si è tra le prime volte dai ci si visualizza il giallo che diventa indaco e poi apri dai ti devi calmare però mi stanno intervistando ti richiamo tra poco e non mi devi scappare la minchia il mio ciao no ma che dice insomma dai sei fidanzato lei è stata troppo gentile con noi ancora di nuovo diciamo che lei è un po' fegoletta diciamo un pochino ci tenevo a salutarvi grazie però dica la prossima volta che quando è con noi faccia meno di chiamarlo perché veramente è stressante stare con uno così eh beh sì ma ragazzi è sempre così io non ho una visita dal ginecologo tranquilla non è così è così e vabbè carissima la nostra signorina fidanzata di Conte ma lei è Federica Ferrero grazie mille grazie Federica ciao Federica grazie a te ciao grazie a voi ciao alla prossima